Non rinto come il blocco, tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi capitale, sembra di affogare Nel bianco e nero di un ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene Dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta, a volte Cristo, a volte Giuda Roma barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso Triste come un tango, tra l'oro e il fango, Roma è un passadue volteggiando sull'asfalto Roma è un volto stanco di Madonna, con le lacrime, celosa, invadente, gustode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera Roma, mani infami dentro all'acqua, santiera Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda Nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta, Roma ama e non perdona Roma divora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda Roma cruda Roma cruda Roma cruda Dai rifiuti ai trasporti, da un buon esempio ad uno cattivo, siamo infatti a metà gennaio i dipendenti della Roma TPL, l'azienda, per chi non lo sapesse, che assicura i trasporti più periferici in città, non hanno ancora visto la loro busta paga di dicembre e questa è una situazione che si protrae ormai da diverso tempo, fra vari rimpalli di responsabilità Per questo il Sul, sindacato unitario lavoratori, ha scritto al sindaco Raggi affinché la situazione sia giusti e gli stipendi vengano regolarmente pagati Ne parliamo oggi con il coordinatore regionale sul del Lazio, Renzo Coppini Buongiorno Renzo, ci sei? Buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno Che succede, Renzo, in Roma TPL? Purtroppo succede quello che noi denunciamo da tanto tempo, nessuno riesce a risolvere questo problema Gli stipendi non arrivano Quindi abbiamo fatto riunioni con il prefetto, con il sindaco, con l'assessore ai trasporti ma la situazione è sempre la stessa Quali sono, a tuo avviso, le cause che portano ormai da parecchio tempo a non pagare mai in tempo utile gli stipendi dei dipendenti? Ma c'è sempre questo scaricabarile di questa società che dice che i contributi il comune non glieli invia per tempo quindi le fatture non vengono pagate il comune invece dice che i pagamenti sono regolari e in mezzo si trovano i lavoratori che non hanno colpe e continuano a lavorare senza che gli vengano erogati gli stipendi In tutto ciò c'è anche, raccontaci, un problema di mancanza di mezzi, di autobus rotti Sì, perché poi la situazione è talmente grave che praticamente questa società, con la scusa che non arrivano poi c'è un vecchio contenzioso C'è un lodo che il comune deve pagare molti milioni di euro che ha scaricato sui costi di Atac quindi Atac deve dare molti milioni di euro alla Roma TPL con questa scusa Roma TPL non paga i fornitori non paga le ditte che fanno manutenzione quindi che cosa succede? Che molti mezzi rimangono fermi all'interno dei depositi e vengono soppresse giornalmente tante e tante corse Quindi secondo te la percentuale delle vetture che non escono si aggira intorno a quali numeri? Sì, un 20% sicuramente sono le corse che vengono soppresse tant'è che poi la totale disorganizzazione di questa azienda per sopperire a queste carenze comanda gli autisti senza criteri quindi ha il danno anche la beffa quindi non sono pagati e sono oggetto di turnazioni assurde Ecco, io Renzo, proprio degli autisti volevo parlare e chiederti qualche informazione perché diciamo che la busta paga di dicembre poi c'ha anche un peso specifico particolare visto che è quella che poi ti permette di vivere le feste in maniera particolare come stanno vivendo in questi mesi i lavoratori di questo disagio? La situazione è bruttissima perché ci sono dei ragazzi hanno delle famiglie praticamente li stanno protestando perché devono chiedere prestiti perché stiamo parlando di stipendi di 1200, 1300 se fanno gli straordinari arrivano a 1400, 1500 euro e sono costretti a chiedere prestiti chi vive e ha la fortuna di vivere con le famiglie quindi chiede i soldi ai genitori cioè queste sono le condizioni di queste famiglie tanto più che poi ci abbiamo dei problemi noi abbiamo aperto dei contenziosi perché gli vengono ritirati dei soldi sulle cessioni del quinto su dei prestiti non vengono versati alle finanziarie quindi molti sono anche protestati quindi è una situazione gravissima di questi ragazzi Ma ci dici da quant'è che si proterà esattamente? Sono anni Io soltanto ho partecipato a una decina di riunioni in prefettura a un certo punto quando ci fu il prefetto Gabrielli si arrivò al punto che il prefetto fece la proposta di poter in qualche modo sequestrare i mezzi per inadempienze dell'azienda e fecero tutto uno studio se continuavano i non pagamenti di questa società l'avrebbero fatto poi si è fermato tutto non so per quale motivo quindi questa società continua nel ritardo dei pagamenti il comune che si era impegnato a subentrare quindi dice vabbè se questi continuano reiteratamente a sbagliare in questo momento noi possiamo avere la possibilità di fare il pagamento diretto cosa che però non è mai avvenuta Quale sarebbe Renzo la panacea per risolvere questo impasse? o come hai detto tu all'inizio di chiacchierata scarica barili fra diversi enti? Noi veramente non sappiamo più che cosa fare perché abbiamo fatto denunce alla procura della Repubblica per tutti questi soldi che vengono tolti ai lavoratori e non vengono dati abbiamo fatto queste decine e decine di riunioni ma ci sono verbali cioè non è che sono intese così a voce ci sono dei verbali scritti davanti al prefetto dove c'erano tutti gli studi per poter intervenire quindi per applicare le penali da capitolato d'appalto a questa società per cercare di intervenire non dico togliergli l'appalto ma almeno di sospendere e di fare un pagamento diretto la decisione la deve prendere il comune quindi l'ufficio legale del comune deve prendere questa decisione nel più breve tempo possibile anche perché hanno indetto le nuove gare ma se le nuove gare ecco perché noi ci siamo tanto battuti quando c'è stata questa raccolta firme per il referendum per privatizzare il trasporto pubblico locale parli di quello dei radicali giusto? quello dei radicali cioè se i privati sono questi il problema non sono pubblico o privato il problema è far funzionare le cose eh già certo senti se tu avessi la possibilità diciamo così di avere qui davanti a te anche come coordinatore regionale il sindaco di Roma l'assessore dei trasporti forse anche qualche cittadino che si lamenta del disservizio cosa diresti? allora io intanto direi ai cittadini non ve la prendete con gli autisti che sono proprio quelli che non hanno colpe stanno in mezzo alla strada non vengono pagati e continuano a fare servizio se ma cose che gli abbiamo sempre detto durante le nostre riunioni quindi all'assessore allora i mezzi credo ci siano bisogna applicare le penali bisogna fare in modo che la legge funzioni cioè se questa società è inadempiente non è possibile che sono tre anni che mese dopo mese non vengano pagati gli stipendi e tutto continua ad essere così com'è l'amministrazione l'amministrazione deve poter prendere una decisione cioè questa società ha vinto una gara può continuare a prendere in giro i lavoratori? cioè c'è un ente quindi il sindaco l'assessore il prefetto un giudice che possa dire siete inadempienti non potete più garantire il servizio bisogna cambiare noi questo chiediamo quindi e siccome l'avvocatura del comune è stata investita di questo problema da anni io credo che debbano risolverlo prima o poi è certo va bene Renzo speriamo insomma che la situazione sia giusti e siamo sempre il nostro canale è sempre disponibile ad ospitare realtà come la nostra io vi ringrazio io vi ringrazio anche perché noi non so se vi siete d'accordo noi potremmo fare uno sciopero ogni dieci giorni ma non ce la sentiamo più di fa perché poi i danneggiati sarebbero gli stessi lavoratori che senza stipendio e gli utenti che non c'entrano niente cioè l'anello debole di questa di questa problematica sono gli utenti e i lavoratori perché quindi noi continuare a scioperare è una cosa assurda Renzo ricordiamo pure che Roma TPL è quella che assicura i trasporti pubblici nelle zone più periferiche della città noi abitiamo a Roma quindi abbiamo assistito a qualche vostro sciopero e obiettivamente si blocca la parte dove poi i romani abitano e quindi sono 20 milioni di chilometri cioè non stiamo parlando di una piccola società stiamo parlando di 20 milioni di chilometri quindi tutti i collegamenti periferici verso il centro no avete ragione avete ragione però c'è qualcuno ci deve poter aiutare perché noi veramente questi ragazzi sono arrivati allo sfinimento queste famiglie sono arrivate allo sfinimento cioè è una situazione incredibile va bene Renzo allora noi insomma siamo qui a disposizione per te per voi insomma per quello che è un problema di tutta quanta la città quindi magari torneremo a sentirci nei prossimi mesi per capire se c'è qualche evoluzione rispetto a quanto ci hai raccontato tu questa mattina per il momento noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per averci spiegato quello che sta succedendo grazie grazie a voi che ci date la voce io una piccola rappresentanza di questi ragazzi perché è critica ed è tragica anche perché ricordiamoci Renzo che dietro un autista c'è una famiglia per cui non è un robot grazie Renzo buona giornata grazie a voi ciao ciao grazie a voi grazie a voi grazie a voi non avremmo mai dovuto lasciarci per dimmi sentivo strano sai perché stavo pensando a te stavo pensando che non avremmo mai dovuto incontrarci bella gente bello il posto faccio una foto si ma non la posto cosa vuole bevino bianco rosso quante ragazze frate colpo grosso non bere troppo che diventi un mostro me lo ripeto tipo ogni secondo eppure questo drink è già il secondo ripensa a quella sera senza condom prendo da bere ma non prendo sonno c'ho questo pezzo in sottofondo lei che mi dice voglio darti il mondo ecco perché mi gira tutto intorno mentre si muove io ci vado sotto ma dalla fretta arrivo presto troppo e sul momento non me ne ero accordo e poi nemmeno credo di essere pronto e poi nemmeno penso di essere sciobbio e poi mio figlio non lo voglio proprio e poi a te nemmeno ti conosco cercavo solo un po' di vino rosso però alla fine vedi è tutto a posto